poi dopo lui lo seguiamo sui canali grazie grazie ok ciao ragazzi qui qua si parte attenzione attenzione allora ci portiamo al centro del campo quelli che fanno il chilometro 10 davanti in posizione patente per cortesia davanti no dall'altra parte è arrivata l'estate è arrivata così e lei si è lasciato in piedi sulla porta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se vuole condividerli abbiamo aperto una pagina Facebook che si chiama RTO Running Event. L'ha già vista? L'abbiamo fatta di recente e comprende un po' tutte le corse di questa zona, di eventi questa zona. Perfetto, grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. 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 Ciao ragazzi. Grazie a tutti.